Mi ricordo quando da bambini guardavamo il cielo, chiedendoci quali meraviglie nascondesse. Ma ora che abbiamo raggiunto le stelle, e camminato su pianeti distanti milioni di chilometri dal nostro, ora che ci siamo spinti, dove nessuno mai era arrivato prima. Solo adesso mi rendo conto, di quello che abbiamo perso. La missione Terra One ha ufficialmente preso il via oggi. L'umanità si sta preparando ad abbandonare la Terra, per sempre. Nove anni fa la missione Terra One partì alla volta dell'unico pianeta trovato adatto ad ospitare la vita umana. Ma quello che non potevamo sapere, era che non eravamo soli. Oh, ma ora che stai a caccia a cercare questo cazzo di trailer della murta che ha tenuto che ha fatto un pozzaro di un marziano, di un sud, ma c'è Davi. Ma va a far moca la murta di Mamp. Ma va a far moca la merda. Cazzo di Sifso di Sifso di Sifso di Sifso di Sifso di Sifso. Grazie.